Avevamo tanto coraggio nel fare l'amore, ti ricordi, Filippo? In tutte queste dolci notti di estate, eravamo spensierati quando ci si rotolava insieme. Ricordi come ci abbandonavamo alla passione che ora ci ha divorato. Aiutami! E dovevamo essere la nostra salvezza reciproca. Sarebbe mai stato possibile. Io ti amo. Sì, lo credetti veramente. Sicuramente, mi ricordo di averti lasciata un giorno che eri stata eccezionalmente partecipe. Io ero sommerso da quella impudita confidenza che sopraggiunge dopo un perfetto accogliamento. E nel corso di questo io pensavo, sì, onestamente pensavo, che il corpo può andare oltre i suoi scopi. Esso può diventare un oggetto di tale purezza, da poter essere idolatrato ai limiti dell'immaginazione. Ogni cosa è permessa. Tutto è giusto. E tale perfezione porta ad una comprensione di questo odioso stato di esistenza. E il risultato qual è? Toccami! Un uovo. Una cosa di solitudine, stanchezza, infermità. E l'amore dov'è? Me lo chiedo anch'io. Va da tuo padre. Digli la verità. Digli che trovi qualche buon uomo. Ne esistono. Aiutami! E come posso aiutarti? Dammi la mano. E' come se toccassi un morto, vero? Anorg走. Come se toccasii un 2500 cazz? E um... E um... M Hospo.